A Santiago del Cile, due riscontri tra le forze dell'ordine e i gruppi di studenti a margine della manifestazione di protesta contro la riforma del sistema educativo voluta dal governo della presidente Michelle Bachelet. La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua e gli studenti hanno risposto con lanci di pietre.